Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con la nostra Raffi, modestamente ragazzi. Grazie a parte ragazzi oggi andremo a fare una buonissima zucchina di mille strati, una zucchina che è differente dalle altre modalità di cottura. Allora come già vedete io mi sono un po' agevolata, mi sono portata avanti, ho preso quattro zucchine con un pela patate, sono andata a pelarle, ovviamente il primo strato lo togliamo, poi andiamo a fare delle fettine sottili. Guardate, così abbiamo tutti la stessa dimensione. Una volta che abbiamo formato le nostre zucchine che le abbiamo tagliate, adesso mettiamo da parte e andiamo a creare una buonissima pastella. Allora come vedete io in questa coppetta ho inserito due uova, adesso ci andiamo a inserire un po' di sale ovviamente a piacere, e un po' di pipe, sempre a piacere, quanto ne volete ne mettete, e andiamo a sbattere il tutto. Adesso andiamo a inserire 160 grammi di formaggio spalmabile. Amalgamiamo sempre il tutto. Adesso inseriamo 15 grammi di olio di simi e 30 grammi di farina 00. Amalgamiamo il tutto fino a quando vediamo che il nostro composto è bello e liscio e omogeneo. Una volta che abbiamo ottenuto una bella pastella, guardate, liscia e omogenea, adesso prendiamo una pirofila oppure una teglia, in questo caso la mia è 30x20. Adesso prendiamo leggermente un po' d'olio e andiamo a spennellare tutta la nostra pirofila, anche i bordi. Una volta che abbiamo oleato la nostra pirofila, adesso prendiamo le zucchine e le andiamo a depositare sopra la nostra pirofila. Ovviamente o sono fine o sono rotte, le agevoliamo uno sopra l'altro. Una volta che abbiamo fatto uno strato per lungo, adesso facciamo un altro strato dal verticale. Una volta che abbiamo fatto due strati, adesso andiamo a inserire un po' di pastella. La distribuiamo per tutta la nostra pirofila. Adesso continuiamo. Inseriamo sempre le nostre zucchine, sia orizzontale che verticale, per due strati. Allora abbiamo fatto un altro due strati e inseriamo di nuovo la nostra pastella e così via, finiamo fino a fine zucchine. Una volta che abbiamo aggiunto l'ultimo strato di zucchine, e adesso inseriamo l'ultimo impasto. Ovviamente se non ce la fate, perché dipende dal volume della vostra teglia, potete anche rifare l'impasto. Adesso ci andiamo a dare una bella manciata di parmigiano, finire una bella manciata di pane grattugiato. E adesso siamo pronti per infornare. Siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico, per 35 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra zucchina con più strati. Una ricetta che raramente si vede, non so se l'avete mai fatta, perché è proprio buona. Guardate, con tanti strati. Beh, spero tanto che anche questa ricetta buonissima vi sia piaciuta, spero tanto di sì, mi raccomando fatela perché è veramente ottima. Detto questo, mi raccomando, come dico sempre, spolliciamo alla grande, e ci vediamo alla prossima. E buon appetito!